Abbandona le testa, i capelli, messi a cazzo Le cuffie blu No, stai trimmando Non me ne sono accorto adesso Ma l'ho iniziato però Non volevo dirtelo per Entra te che è arrivato a 200 MB Lo sai, vero? E lo sai che non paghi per attivartela, vero? Cosa? La 200 Adesso sta, va, ancora Se cosa Ancora devono disattivare l'altra E poi hanno sbagliato l'indirizzo Ma scusami, tu mo Con che connessione sei? Mo la diema ancora Ma la devi disattivare questa? Sì, ha mandato il coso per disattivarla Però ancora non l'hanno fatto Eh sì, poi ti l'ho fatta, ebbene Eh, però l'ha fatta, ebbene ha fatto il coso Hanno sbagliato l'indirizzo Mo secondo te noi abitiamo a Milano Via cosa Milano Devono cambiare tutto Sì, sì, sì Ehm Ehm Ralex è qui con me Sì Sì Demi me lo fa un favore Che sta c'è? Ti vedevi? No, non lo so Vediamo Entra, Demi, vai a prendere per favore Una bottiglia d'acqua Prima Metti il gioco Perché non mi vedi? Perché quando sono... Ehi, ehi Ia, fai un'apparizione della tua Un'apparizione? Ma chi c'è? Francesco È Alex È Alex Di qua, ti vai, mettiti qui in qua No, no, nel senso Mettiti qua Guarda, guarda la telecamera e vedi, no? Devo guardare lì però Pin qua Minchia, te Con l'auto di una cattolica No Aspetta, com'è? Così Bitch Bitch È una bella bottiglia d'acqua fresca Fresca, fresca Che è uscito? Re Alex Perché si è uscito Re Alex, mannai Ma boh, fai il rumore oscena della mia cosa Perché è uscito Re Alex? Re Alex Eeeh, crash così Così che crashò Re Alex È crashato Di palestino, olivo Cosa dice Frankie? Frankie è andato a prendere l'acqua pure lui Ma io sta acqua, manna Eh, Danny, se dobbiamo concentrarci l'acqua ci vuole Fresca Dimmi se si vede No, non si vede Il letto non si vede per niente Si vede lo sfondo bianco A delle cose L'ho messo apposta Non so perché non mi mette più la condivisione proprio dal coso Su Facebook Lo devo fare io Si è parlato Sono cotto d'amore Il titolo di questa live Tu sia fino to moon Proprio così Camillo Giuseppe di guida Oh, mi sentite? Si Ale, io si ti sento Francesca è andato a prenderla qui Ok Eh no perché È recrashato No, no, non so Ho chiuso io Perché non riuscivo ad entrare nel party Eh Mi faceva proprio il cielo Rimaneva fisso su Oh, ieri no, mi curava Camillo Ieri non veniste a me gli occhi, no? No, anche a me Ma mi avevi invitato Con un altro Ma siamo Io ormai sono con Francesco Io pure No, non vi ho proprio con me Ieri De Matteo si stisse da l'altra parte Eh, qua A verità Ma che faccio? Lascerò io Invitolo, inviterò che glielo dico Ah boh, posso invitare pure io Sì, il party è pubblico Ehm Ehm Ah, ti serve solo il quarto Sì, la prima cosa Va bene Va bene Allora Non mi devo essere La prima cosa La prima cosa C'è tempo? Danico, Danico, Borsi Comentavamo Alex, sono andato in oltre a Scud Eh, ho visto, ho visto Io non mi entrava Dai Bella Kamix Erano gentri loro, capito? Tu ce l'hai qualcun altro per giocare? Eh, sì Invito qualcuno Dai, vai tranquillo Ah, qua Ok Sicuro non ha dato nessuno Vabbè, poi ci ribecchiamo Andrò, lo sai? Sì, sì Ciò 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 Facciamo Questa che stagione è la quattro ancora o la cinque? Quattro, quattro Ma io non mi riesco ad entrare nel gruppo Scadenza 11 giorni Quattro Non mi fa entrare nel gruppo, raga È pubblica la frase Aspetta, l'invito Aspetta, l'invito Prova, prova l'invito Io sono con Nico, raga Ma voi dove siete? Aspetta che invito io Ma io ne do uno su quattro Ecco Devevo fare attenzione a partecipare Ok, non è andato Non andato a Franky Arrivo Oh Alex, sei ancora a 98? Sì, sì Non sono due livelli che faccio a breve Due palleggi ci stavano Raga, ho appena fatto una cosa penso che è abbastanza schifosa Vabbè? Ho aggiunto in un bicchiere di Diciamo gelato alla nocciola Ho aggiunto del latte Non so come posso uscire Dovrei frullarlo però Vabbè, io ho fatto di peggio una volta Ho detto un amico mio Metti nel latte il po' di succo alla pera Poi io, mamma mia Conostissi qui Io una volta ho fatto una cosa che penso Molte riterranno schifosissime Ho mangiato i crackers Poi una Nutella sola No, buonissimi Ma sono buonissimi Però non so come la pensavano Io devo provare una cosa Io lo ho fatto con la maionese Beh Io devo provare una cosa Quella è ancora più arida Pizzas e Nutella No, non insieme Eh, perché c'è Sennò voglio Ma caga spruzzo Eh, infatti se è sicuro Dai, ora vediamo se riesco a vincere Una partita con mio cugino Che è d'assai Oh, sei bloccato tutto Ok Cominciamo a fare Ha capito, lei? Noi incasimo con 50, 60, 70 mega Cugino ma c'è arrivato a 200 E' bello, lo sai qua, lei? Che a lui è arrivata dopo la fibra rispetto a noi E oltretutto Oltretutto la 200 La 200 non gliela porta solo team Pure Fastwood Quindi come giusto che sia E' passata a Fastwood Perché paga un botto di meno C'è già uno, due, tre, quattro Sono almeno due team Però a me mi hanno parlato male di Fastwood Nel senso che Mi hanno detto che poi ho Alla casa di Prudges Andiamo a Hamburger Allora Io sto avendo paura Non ho un'arma Molto bene Trovo solo proiettili Grazie Facendo Giulia Io ho uno scendino da dare Anch'io No No C'è una cesta Che cazzo Tokamix C'è qualcuno Non c'ho armi Non c'ho armi C'è qualcuno 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 Dove è non Uvile Con la pagina Vedete C'è gente C'è gente Questa Sì Io muoio muoio sono morto non ho un materiale sono morto ciao non è vero ma lui è a ovest si è fatta una scala ma pushato sulle montagne e sulla tetto della cosa un burger ma non c'ho un materiale una scala io non ho niente cavolo non ho materiale a quello non so come scappare tutti sono troppissimi questi di meglio evitato uno atterrato c'è niente qui cosa di meglio per uno da me mi prevede non ci siete rivita no è guasciottissimo dai antonio 03 voglio un 2003 questo c'ha due anni 2003 lei ha 15 anni vabbè io non mori ma io sono 10 colpi ma caccia di nuovo vabbè ma non teni se è un caso da parte mi perdevi vabbè sono morto c'è niente caccia di nuovo a morire guardami con te claccia d'ultimo il nuovo 17 lit e si entra morto per eliminare poi accendere di ricosti sarei cliccato con la scala l'avevo fatta bene però lui mi aveva costruito di sopra mi aveva bloccato la prima tu sei a fine do moon ok ecco ma io ho la manciola che affogano il latte è stupenda mamma mia voglio di fare il gelato nì ad agosto c'è il plus il 10 z z z quando costa 60 costa venti euro l'uno mi ricordo io al nano beh 10 il pass ehm? 10 il pass 10, non lui lo sa il 10,5 non mi ricordo al lavoro no lui plus si pass questa cosa pass plus plus bis bis pass app, shut up, please shut up please non 40 non sarà deserto ma c'è la metà la sfida un po difficile che te certo io lo fa bene considerando che siamo a fine stagione la sfida l'avremmo già fatto una sfida del passo della differenza che io l'ho fatta nella prima botta fai così alla prima partita tutte e tre in una botta la scatenata triplet una pistola ottimale un lag è ottimale un medico ottimale chi è che sta arrostendo peperoni voglio il leale sta cosa buono come cazzo non lo senti? ah da te non si chiede perchè pure tu è buono sii ma chi è che sta arrostendo peperoni così tu sei mamma di spazzia ma che e niente ma si mangia frutti ma si attende però ho preso il caffè ma ormai va se vogliate c'è bollito c'è una metraglietta io io però il termico come lo vuole io ho cinquanta pompa che li lascio tutti qui uno va se proprio vampo non è scherzo che vampo dica colore come va manca ora che ne cuassa se ... parola 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 qualcuno viene con me in hotel lui? io io ista stad件事情 io non l'ho proprio visto dietro l'acri quindi nessuno lo vuole sto termico e non no 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 te lo puoi no tranquillo e che cazzo sta facendo questa acqua mi fa vivere acqua olimpica quindi devo essere ho capito mamma ma attenzione quelle scade a doppie scale questo ho fatto io sento un'altra cazzo mi sento che ho trovato i tre cazzi altro medikit dove va e munizioni vieni qua mamma mia queste cuffie mie però hanno perso un po' non ho capito ma quanto hanno perso è proprio un peccato stato quasi che capita no facenzi cazzo ho 54 colpi piccoli qua per fortuna che l'ho pagato i 35 invece di 70 a me sta male mamma mia ma voglio hanno fatto un giorno che si aprono da solo le porte io non me la ricordo preferisci il pompaio non a blu io ho già ce l'ho quindi sono a posto se non ti serve io ho lasciato una mitraglietta verde qui se vi serve andiamo via con cazzo vogliamo andare a parco ma io avevo il gatto e il cuoricino cosa ha con i cacciati ha un gatto in cielo ancora un ordone che sta ridendo si perché ha messo un altro tipo di tasti io ho il professionista del combattimento non mi ricordo delle costruzioni comunque io costruisco con cioè switch con L1 e delle U ed R1 e costruisco con col cerchio diciamo lui l'ha cambiato e vedi che mi faceva la pedale invece della scala la massima che cazzo c'è solo le cose qua ah no no mi hai chiesto qua la roccia la prendiamo allora è stato lootato a barco eh speriamo che c'è qualcuno ce n'è uno c'è uno qua da me c'è una p***a sono senza pietre dai come in faccia Franky voglio dirlo ahia che cazzo l'ho visto l'ho visto l'ho visto dai porca troia aspetta che l'ho pusciata così eh mi piglia mi piglia non ti finisce no t'ha finito che bastardo pensavo che eravate dietro di me no io sono senza pietre vabbè dai Alex ce l'ha in faccia busciando ma perchè non mi costruisce voglio non mi ha costruito di nuove scavo oh ma devo 30 al 60 sono vita non c'è studio mi sta accendendo veramente la vita no vabbè voglio impressionante come scatti dove sono io sono io dove scavo voglio mouse e tastiera tutta la vita wow ma hanno chiuso dentro ma io mi sento qui non me l'ho messo a terra io eh tutti lì sono nico te ce l'ho pure dietro eh no ma gli sparano dietro pure iniziamo proprio bella voglio questo mouse e tastiera tutta la vita bella che è tessosi guarda voglio guardate guardate bella vabbè il forte che quando la busca fa così capito si è tutto bellezza mamma mia mamma mia guardate questo muovete stiamo giocando quando metto questa nico ma lo stavi guardando tu a questo qua no ci siamo usciti tutti assurdo, si è girato ha fatto un 360 cadendo e gli ha sparato in faccia di nuovo no vabbè raga non vi dico, si è squagliato già dalla nocciola che è il latte mamma mia muovete e mangiare qualcosa no, non te ne andare mo non mettere pronto sei ne andato sicuro ma porca di te speriamo che torna in tempo sennò ci mettiamo più lontano possibile quando senti sta tornando cazzo è un formichier tira qua su no no non c'è là eccolo andai a nico la sennò è che buona è che è ritardato è ritardato ma che buona questa di nuovo da era per far arrivare nico in tempo vabbè ormai come va rapide se no ce la facciamo andare rapide si è rapide si si andiamo a rapidissime repito qualcuno è sceso da lì l'ho visti mi va a tornare mi va a tornare uè don pa senti di un po' passi nico io vai 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 arrivare ora come mi senti bene bene no dicevo la tizza ce la faceva arrivare a radio no lontano lo muovo un po' nì si è messo in bocca su cazzo di to a me non mi interessa effettivamente è da la bocca da fare di to ok m4 blu qua grazie arrivo a qualcun altro raga no siamo soli ok non l'ho voluta pompa qua no avete limonato con microfono via no rimoti con microfono ti senti proprio io non ero ah vado mi g non mi pensa su sti buonanetà eh vai il couldnerico vampa viola il vampa ora in mezzo alla via giusto già va chi lo vuole il vampa viola voglio io non mi piace io l'ho trovato dorato io dov'è? no dai io la luce mi è contento di questo il mio vampa è il mio vampa voglio sono mia guarda come su io ma sei piccato di baglietti guardalo qua non mi sto preparando arrivare dan 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 mamma vedo viola ok qua è? una volta era una forza questa cosa ma non è possibile che si è trovato un cavolo no ma non c'è niente proprio nemmeno di tutto vabbè sì dobbiamo andare alla fine non ci vogliamo andare ci andiamo invece stai facendo una figura che è merda va due partite e non dà col pavione vabbè cus sempre non ci vogliamo andare in casa non c'è niente no non ci vogliamo andare in casa non ci vogliamo andare in casa non c'è niente uno scudino c'è per me ah voglio toh a proposo mi scordavi voglio lascio due scudi qua ragazze mi hai scordato eh piglia sacca anzi ne ho altri due se ne volete voglio è uno a francesco uno per me si dove state l'altro scudino c'è un fucile assalto verde guarda perché lo volesse se nemmo vende qui raga il garage Eh, io ne ho lasciate, voglio, se avete boss, tipo bombe, esplosivi... Oh, vedi che siamo già in quattro, siamo giocati. Appena si è riprecomposto poi... Ok. Sopra. Ah, eh, Tim. Come cazzo fa a fare questa voce robotica? Perché ha la cam attaccata, stacca le cuffie ma gli parte il microfono della cam. Perché ha dimenticato di fare disattiva audio della cam, sennò prende quello. Quindi è così brutto si sente l'audio della cam. Vabbè rimbomba, no? Salute! Bella, così. E' giusto così, sono d'accordo. Ma una volta che stavo camminando, tipo così... Cioè, non c'è spoglio, passa, non si... E non... non passavo. Che cazzo. E' tutto sventrato qua, voglio... Dici? Mmh, mmh. Mmh. Vi saluto a Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Giampaolo. Per due sei lei. Ciao. Sono scappati da Angri. Non c'era più niente, allora... Mi viene da una pesciarella. Però ci sono fregati tutti. No, vabbè. No, vabbè. Io andrei verso parco, magari. Sì, devo prendere oltre due minuti. Andiamo prima... Ma sponde c'è quella stellina? Sponde il saccheggio. Andiamo a vedere. Accroce via, c'è la stellina. E' bacio. E' accroce via, sì. Ancora non l'ho preso, eh. E' sopra... un coso di mare. Eh, ma non ci arrivere... non ci arriverete mai, ragazzi. Come ho partito da safe, buoni. No, vabbè. Arrivi lì e la safe si resta in generale, d'altra parte. E' una pila di macchine, quindi devi fare... No, no, ci sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Nella casa, vero? Aspettate che arrivo. No, 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 no. Sud. Sud. 150. Adesso. Davanti a me là. Ma se volete fai-tare andiamo, sennò... Ah, li vedo. Vediamo un attimino dove va da lei. Vediamo un attimino dove va da lei. Ma dove stanno? Ah, boia. E ci vuole un po'. Vediamo la safe dove va. Ok. Ah, possiamo farci. Eh, ma così ce l'abbiamo dietro, che dobbiamo fare voglio dire. A croce via, quindi. Eh, io ci sto andando. Ma dove stanno che non siamo? Vediamo, dai, 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 dai. Ah, veste. Che ne so, ma avete detto 150? Sì, sono lontanissimo. La ragione è che sennò ce li troviamo dietro dopo, è peggio. Eh, ce l'abbiamo dietro, sennò. Ma dove sono? Dalla parte più lontana, fra... Dalla l'altra parte del... Dalla... Del fiume, là. No, raga, erano qui. Lì, lì, eccole qui, 150, l'ho visti? Due stanno, stanno venendo qua. Eh, vabbò. Eh, vabbò. Eh, vabbò, però, eh. Sì. E che è sta mafia? Mi ha proprio preso in pieno. E vaffanculo col pompa verde. Aiuto. Qui il cam... Oh! Oh, tu che ci fai qua? Via la madonna. Salvate me? Che sono vivo ancora. Sta venendo da voi, raga, uno. Quello che mi ha ucciso. Nooo, ho finito la... Dai. Ma non ci credo, ho finito i proiettili. Ma non ci credo mai nella vita. Nooo. Dov'era? Ho finito i proiettili, voglio. Ho finito i proiettili. Ma che sport vuole. Mi hanno fatto una strada. Mi ha fatto una strada. Ci sono uno con le bombe ad escive. Praticamente, ho fatto la sfida. Unica cosa di questo. No, a me mancano due stradini, hanno fatto i cento con le bombe con le granate. s pova livello 99 devo eliminare altri 3 nemici io sono l'87 devo eliminare 3 nemici arriva 100 ad agri no no missione giornaliera ero 7 su 10 ma avete la finita la settimana 9 no vabbè e se le spacca tutte le vede e finora questa cazzo è acqua ma come vero pozzo mamma ora che cazzo è un cammello seriamente no non è il fatto di bella è che sembra che sta alledonando fa un bordello cagolo ho capito che devi bere la vita mia ma cioè ogni 10 secondi che hai è piena di una cannuccia a me è venuta sete sii si voglio dell'acqua voglio dell'acqua ma io è vivo la verità mi ha sete non sono io davanti alla playstation non faccio mai questo ah ho dovuto morire ah lì alla prova è successo dal boschetto che ne so eh vabbè eh buono avevo visto il segnato qua ave manico ninja all'improvviso l'ha messo oh bello rocavalla c'è gente eh me la cazzo c'è gente comunque c'è uno che va alla casa mia perché vai lì per la casa a fianco raga scusate ma in quale è che succede di questa casa rossa no perché mi fatti la casa va bene mi faccio la cesta qui la cazzo te la sei presa va dai scartola se presa c'è uno qua io fai un basare c'è uno che non sa ah spero vai 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 qui è di sa cosa che vado a aiutare la pena stanno io da a fang non ti do a fare tienite la tua il fucile no l'ho preso dai cazzo ce l'ho preso arrivo e vieni andiamo ma dove sei uno è cale la è uno dove sta fang però io dovevo che c'era le spalle ah beh ma facciamo chi sei fang e poi andiamo tutti a voi ma dove sta dentro è qui è qui lo sento mi ammazzare solo c'è un'altra da fuori porca puttana è retro l'albero l'albero è dietro l'angolo una torma a pista porta cosa vuol dire non arriva un altro non arriva un altro lo sento ma perché voglio stai entrando lo cazzo è andato stai suscitato questo tipo te ammazzare ha detto c'è un palo che ha messo ha messo la diretta dentro il bar c'è stato un bar intero che vi guarda ma quale ti ha detto la mia la mia la mia dai ma perché c'è da dei bastordi mi fa morire sempre cani ma la cosa bella è che la via davanti ho costruito il muro ma mi riparo e c'è di più davanti eh l'ho notato eh tempo non costruisco cami vuoi un scudino ma esco ah scudini vabbè ho fatto le 3 kill posso morire contento ok teniamoci da qua va bene un po' di roba se me lo vedo lì sopra hai scappato la cazzo prendo la vale no vabbè aspetta io te lo bucchai meno vita va bene il fucile verde non lo vuoi? ce l'ho già ce l'ho già ok voglio scusate quante kill avete? la manca uno io zero è arrivato troppo da ma forse l'ha fatta uno francesco ah no 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 quindi la manca uno ma quello l'ultimo che hai fatto è morto subito o? no no non è morto subito si sparavi dopo la capo un po' aspetta che forse sento pazzi forse io sono sul tetto ma ti vedo il benzinaio voglio io sto facendo un giro per vedere dov'è è qua questo è pure che sei andato a fugge vedi è verbo ma non vedo prima non sono tuoi danni le canoe sono fatte di metallo adesso è possibile bel ciclo c'è un carrello ah l'hai trovato che è Alex? andiamo a vedere Alex andiamo a vedere siamo qui siamo qui siamo qui la cacca ce la vogliamo capire? proviamoci occhio che escono da ghost warrior grande sbagliato la persona civile è andata alla porta termico e vai me lo prendo io tanto non c'è un cecchino me lo prendo io non c'è un cellulino non c'è un cellulino non c'è un botto prima non c'è un botto prima non c'è due grazie a Giacinto Raffaele grazie a Giacinto Raffaele guarda pure Alex che scappa mi ricordo che giocavo con Franky era sempre lui quello che arrivava alla fine ma invece oggi è il contrato è un'altra parte purtroppo è un'altra parte eh vediamo come è che basta buona parte della cala la cittadina pompa verde tattico m4 no io il verde gioco c'è lo blu del campo raga allora da pinnacoli non passerei sinceramente che sento a capodanno da pinnacoli non passerebbe anzi no aspetta si fa vicino a me si echinavano a me si echinavano da dove si l'ho usata pure i vero ah eccole da 240 mh eccole si li ha visti li ha visti ma i forti non li vittato sceso la cazzo da dietro da dove da dietro da dietro da pinnacoli ce la fai alzata almeno alex ce n'è una di trova pinnacoli ce la puoi fare a salvano le due perché dei seti a panno dire da me no sta avvenendo niente è stato bellissimo eh vabbè ho capito il gran figlio di puttana non voleva nient'altro come sparano l'ho messo dietro l'ho messo dietro c'è l'ho messo a combattito è una cosa che era un pazzo l'ho messo a combattito non buttate l'azione nooo dico c'è trova il lato l'ho messo a combattito ok 1 3 3 1 3 però guardami quanto sono forte se no non va la pena aspettate raga aspettate raga devo fare una cosa che c'è? e nonostante ancora non c'è lui deve fare una cosa ma quanto l'ha pagata sto completo? me l'ha regalata no ha preso Omega battissimo per Alex ma l'ho sbloccato completo raga ah il cortezio è perchè non sei all'80 per questo aspetta ma le missioni che cosa ti danno? con le missioni le missioni 4 su 5 ah ok quello 63 su 5 vabbè dai però alla fine io sono a 65 oggio no io un sacco non ce n'ho io non ho questa 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 attenzione è il pro il mio fratello vuole fare questa avventura ma quant'è un crescita giochi non lo so c'è 7 vabbè no 7 va bene no 7 va bene vediamo ok ah ma è il fratello di Nico sei si si è dicevo io aspetta Dennis come ti chiami scusami si Dennis Dennis ok ah questo è sempre giallo a sping è un po' brutto questo Franky è un po' brutto ciao nano ciao ahhh 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 guardiamo il mio fratello che gioca è solo un altro ne facciamo una forza se questa la vinciamo ne faccio un'altra tanto non la vinciamo oh Frank ahi eri ancora in diretto sul bar e ci vedeva mica tutti minchia davvero figure M scusate scusate ragazzi scusate no aspetta fai vedere fai vedere che si si sono ancora lì sicuro si perchè ancora sono gli stessi spettatori quindi scusate Giamba chiedi scusa a tutti però poi non so allora io non so se lo sta facendo riprodurre il cellulare o magari hanno una smart tv con youtube ti immagini hai collegato un impianto tipo mamma figura del merda ti stanno guardando ri mamma ma oh che è sto lag ne hai 190 ma quando giochi Gesù 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 tranquilli mi si sono spento il joystick non mi vengono asso giro te colto mamma perchè la staccata è attaccata mi fa molto più alto ahhh eccolo qua il mio preferito tattico denis ciao mi scelgo arrivo c'è tuo pure nella casa un altro te lo posso dare io siete gentili o bibitone però ero così quasi utenera per dopo ha scritto giampaolo tranquilli qua ne volano ma chiedigli se siamo su schermo senti senza dove è qui a capannino un attimo capo la chester c'è un m4 verde qua sopra chi lo volesse ci sono bene ma servirà con pompa messe lo è stupido potrà aspettare una stagione si prendeva il pass con lo con i livelli e 600 di mattoni quale da un obbligio tattili si è speso che bisognavi paga il butore dovrà spiegare non ci arriva poi mattoni ferrari fa qualche roccia quella no beh se me ne vado qui sotto per di qua è pieno però mai dire di iniziare a spostarci verso borgo comunque omega senza diciamo la peccolina davanti colorata perde parenti c'è da dietro no ma tocca a livello stagione 6 eh so basso ho perso un sacco di tempo prima sono a 62 e io ho 58 con il mio account però ancora non l'ho sbloccato omega sono al 91 il pass battaglio io me l'ho sbloccato ma no mio fratello secondo me non ce lo fa vuoi arriviamo niente ancora troppo basso o deve fare tutte le sfide d'accordo eh voglio mi serve qualcos'altro perchè io sono messo male shieldini qui qualcuno che li poteva prendere io li posso prendere ok sono in questa casa fino a che arrivo mi conviene camminare perchè ma che sta succedendo che fa ste botte di lag che evidentemente per te lo sta facendo qualcosa ma è un indicato sta come mai quando gioco io non ci si vede mai sta cosa ma tra volte ci sono arrivato a 1100 ma sarà la live sicuro oppure di lax ho trovato un po' ho trovato un po' si è troppato un pensilino ce lo faccio qua hanno fai dato eh secondo me dovremmo stare attenti a passare c'è qualcuno perchè mi sa che ancora c'è qualcuno secondo me è in quel fortino portato dove c'è il fortino si si secondo me si pure aspetta che prendo il centro al volo no però è sbundato eh forse no 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 non c'è nessuno sono già andati in safe a magazzino troviamo un po' di gentagli di vita tragiche visto che Mertello stava streammando no se caccia la webcam migliora un po' il ping il? il ping se togli cosa? la webcam dalla stream no allora aspetta vado a staccare il wifi il telefono che non so dove ho messo ma scusa ma chiudi la stream mi sa no no eh poi per te lo eh beh se li sto fiumando mi rompiro parte il treno poi eh va bene vuole che se allaghi tu la stream viene malissimo eh eh non è che si segue bene no ma non sto allagando fa dei colpi tipo di un paio di secondi però è fatidioso infatti io nonostante abbia una buona linea nella mia stanza non prende benissimo e live non ne faccio mi si nove non ha cacato no no al prossimo calo che mi fa cos'è una trappola quella? ragazzi a magazzino c'è abbiamo compagnia ok però mi sa che stanno fai tanto sì sì ma bolla ehm nord-est ma bolla la toggo se se muoio laggando sclero no al prossimo c'è magari Grazie a tutti.